C'è grande preoccupazione per l'aumento di contagi covid in provincia di Teramo, una curva che non sembra nemmeno stabilizzarsi e che vira verso l'alto. L'ultima rilevazione dà 131 nuovi casi positivi, di cui 34 solo nel capoluogo Pruttino, 19 a Roseto e 18 ad Albadriatica. Per quanto riguarda Teramo città, il quartiere maggiormente colpito sembra essere quello di Colle Atterrato. Il sindaco Gianguido D'Alberto preme per i test di massa che dovrebbero iniziare già dalla prossima settimana. Secondo gli esperti, infatti, nel Teramano potrebbero esserci un numero insospettabile di asintomatici che stanno diffondendo il contagio. Nel comune di Montorio Alvomano, per esempio, dove si è verificato il primo grave cluster di covid che ha coinvolto quattro medici di base, la curva dei positivi si è praticamente dimezzata negli ultimi dieci giorni. Il sindaco Fabio Altitonante ricorda che, appena accertato il focolaio a Montorio, è partito uno screening di massa che ha testato 4.500 persone. In pratica il 30% della popolazione è stata sottoposta a tamponi. Tutti positivi e soprattutto gli asintomatici sono andati in isolamento, interrompendo così la catena dei contagi. Proprio in queste ore il sindaco D'Alberto sta prendendo accordi con la protezione civile e per organizzare anche sul comune di Teramo test di massa il problema sarà come realizzare il successivo tracciamento in caso di positività. Che a Teramo la situazione non sia delle migliori lo si capisce entrando in farmacia o parlando con i farmacisti. Sono loro ad avere chiaro il quadro della situazione, in particolare sulla base delle ricette che visionano e delle medicine vendute. In città questa mattina si avverte uno scoraggiamento evidente.